La scelta è quella di dare un valore aggiunto alla splendida piazzetta Palombo a Campobasso, sistemando accanto alle piccole preziose botteghe di artigianato un infopoint che potesse essere per i cittadini di orientamento e conoscenza delle molteplici iniziative che gli amministratori comunali hanno organizzato nel segno delle festività, iniziative inserite nel cartellone Natale in Comune. È importante che ci sia una comunicazione diretta tra la città, tra i cittadini e noi amministratori che abbiamo organizzato appunto questo cartellone ricco di eventi. È un cartellone che, come avrete già letto, privilegia come luogo per lo svolgimento di tutti gli eventi musicali, culturali, eventi che sono stati proposti anche da associazioni che operano nel sociale e che naturalmente si proporranno con spettacoli sia musicali che teatrali. Si svolgeranno proprio tutte queste manifestazioni, si svolgeranno in questa tenso struttura o pala eventi, come si vuole chiamare, proprio perché per fare in modo che ci sia maggiore partecipazione di tutti i cittadini a questo programma del Natale. Quindi maggiore partecipazione significa anche far capire alla città la vicinanza dell'amministrazione comunale a tutti i cittadini. Certo, ci sono degli spettacoli che non possono assolutamente essere portati in scena in questo pala eventi. Ieri sera, ad esempio, c'è stata una bellissima rappresentazione teatrale, ma lì c'era una scenografia, bisognavano rispettare dei canoni, quindi era necessario che questa manifestazione si svolgesse a teatro. Anche un'altra manifestazione teatrale dovrà necessariamente farsi al Savoia. Però ecco, lo spirito di questo Natale è stare più vicino ai cittadini, stare più vicino alla gente e partecipare insieme, quindi gioire insieme e per il Natale e per darci gli auguri per un 2016 che si spera sempre sia migliore dell'anno precedente.